Siamo con Matteo Pellegrini, esterno d'attacco del Moro Paganica. Da pochi giorni sulla panchina bianco-rossa si è seduto mister Andrea Sciarra che ha preso il posto del dimissionario Mauro Scimia. Che impressione gli ha fatto il neotecnico? Allora, la prima impressione è stata molto positiva. Abbiamo lavorato ovviamente martedì molto fisicamente, ma sempre con la palla, partitelle a pressione, con le sponde, quindi è stato un impatto senza dubbio positivo. Ovviamente per arrivare al risultato che ci siamo prefissati della salvezza dovremmo lavorare sempre così, sempre con la giusta intensità e secondo me è un obiettivo raggiungibile in questo modo. Il Moro Paganica ha i mezzi per centrare la salvezza diretta? Sì, allora, i mezzi io sono stato sempre consapevole che li abbiamo sempre tenuti. Purtroppo ci ha detto un sacco di volte male, molti episodi sono andati a nostro sfavore, però già da domenica si è invertito il senso di marcia e è stata una vittoria positiva. Speriamo di continuare così. Grazie a tutti.